Sono stati 58 gli interventi dei Vigili del Fuoco dei Comandi del Veneto effettuati dalle 20 di San Silvestro alle 8 del 1 gennaio, esclusivamente per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno. 22 le operazioni svolte a Venezia, 9 a Padova ed altrettante a Verona, 7 interventi a Vicenza, 2 a Belluno, 2 anche a Rovigo, mentre a Treviso non si sono resi necessari interventi dei pompieri. La gran parte delle attività ha riguardato incendi di cassonetti e cumuli di rifiuti. Nel Vicentino sono due le persone rimaste lievemente ferite dai botti, in particolare un quindicenne dell'alto Vicentino è finito all'ospedale di Sant'Orso con una ferita agli occhi guaribile in 7 giorni, indagano in tanti carabinieri.